Buongiorno e buon giovedì a tutto il mondo. La gloria di Dio sia con tutte noi. Il Signore è grande e meraviglioso. Ancora oggi ci vuole mettere sempre alla prova. Se camminiamo dritti verso la sua via, siamo a noi di cercare di camminare dritto. Questo mi ha sentito stamattina di condividere con tutti noi. A Dio sia la voce della gloria. Scriviamo il messaggio. Grazie a tutti. 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 che qualcuno comprenderà. Grazie a tutti. E poi qualcuno comprenderà che la pace è in noi. E si dirigerà come meglio crederà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. anche a tutti. Quelli che vedranno e ascolteranno questo video. E altri video che tu mi farai fare. Grazie Padre Celeste. Dio l'amore. Tu sei il Dio dell'impossibile. Tu sei il Dio che veramente in questi anni mi ha dato quella gioia. E non mi hai mai abbandonato. nonostante io ho deviato a destra e a sinistra. Ho fatto di questo, di quello, di quell'altro. Ma tu sei stato sempre cosciente di aiutarmi. Di darmi fuori sempre dal fango dove io andavo. Grazie Padre. Ti ringrazio. Perché tu sei un Dio buono. Un Dio meraviglioso. Non c'è Dio come te, Signore. E stamattina, Signore, chiunque si metterà nella posizione giusta di tornare indietro nei suoi passi e rispondere il suo sguardo attraverso la drogge del tuo Figliolo Gesù Cristo. Ti prego. Dai pace anche a loro. Grazie Padre. Grazie Padre. Grazie. Anuntami. Alle un Cure. Als escola. Alle un nonafredno. Alleluia. grazie in nome del tuo figlio Gesù Cristo che tu l'hai benedetto in eterna amén alleluia grazie bene mia cari nella grazia del Signore io devo finire il video ma ancora vorrei dare qualche avviso è vero che le cose sono tante che ci distogliano nell'avvicinarci alla vita di Gesù è vero ma se compitiamo strettamente lui lui ci dà la forza è come quello che dice ma io non posso smettere di fumare ma io non posso togliermi il vizio di giocare a carte ma io non posso togliermi questo vizio di guardare cose che danno un senso non giusto verso la vita inglese ma se confidiamo in lui piano piano queste cose vanno via noi dobbiamo solo confidare dicendo a Gesù voglio questo mio fratello maggiore Gesù mio signore ora quello che vi volevo dire ho fatto una chat in whatsapp nel mio profilo in facebook c'è la mia foto c'è il numero di telefono che è interessato può prendere il numero dalla foto che c'è nel mio profilo e può chiedermi l'amicizia scrivendomi nel post in whatsapp e mettendo il nome così io posso metterlo in questa chat non c'è niente di diverso in questa chat ma io la sto curando come un padre cura i suoi figli mi dedico notte e giorni per ognuno che entra in questa chat dirvi altro è superfluo perché lo vedrete con i vostri occhi entrando nella chat ebbene vi saluto vi abbraccio come se fossimo di ripresenza una stretta di bacio a pezzo sentendo io questo calore e poi il mio e un grande bacio doppio a Dio sia la luce e la gloria in Cristo Gesù Amen pace del Signore Amen Grazie a tutti